Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi del brand AWA, l'azienda fondata da Stefano Fugardi nel 2019 che si sta espandendo sempre di più nel motorsport. Le tute AWA sono su misura personalizzabili e airbag compatibili e possono essere realizzate in pelle di canguro o pelle di bovino. Tutte le tute sono dotate di protezioni interne di livello 2. Sono inoltre equipaggiate di protezioni esterne su spalle, ginocchia disponibili in vari colori. Le tute AWA sono fornite con protezioni gomiti con sliders intercambiabili e neoprene su polsi e capiglie per un maggiore comfort. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali e noi vi aspettiamo al prossimo evento. Alla prossima!